Ciao ragazzacci, io sono Mito155 e facciamo qui su Minecraft, stavo facendo su farming, ma non c'entra niente farming, questo è Minecraft. Allora, entro in casa perché devo mettere a cuocere delle altre patate, questa patata secca qui schifosa che me l'ha data. Non ho più del carbone, ma ne ho quattro di qua e... più o meno li metto qua e poi vediamo. Allora, cosa voglio fare oggi? Oggi ho scoperto, anzi ve lo faccio vedere, ho scoperto, ho visto che lì c'è... Non si vede, dobbiamo salire per forza sopra. Ho notato che lì c'è tipo una... qualcosa dove andare, non lo so come dirlo. C'è qualcosa che mi può servire, riesco a fare un po' di parkour io. Uh, ce l'ho fatta, questa volta ce l'ho fatta, come ho fatto a farcela non lo so, ok. Ce l'ho fatta anche di nuovo, perfetto. Qui c'è questa tipo pianura di terra che potremmo sistemare in qualche modo, che potremmo usare per fare un pascolo di animali liberi. Quindi qualcosa che mi possa servire, non lo so. Mettiamo qui un blocco di terra perché non c'è, non so perché qua non c'è l'erba perché la luminosità è troppo bassa. Adesso dovrebbe iniziare a sistemarsi, quindi proviamo a mettere qua. C'ho delle fence, non c'ho delle fence. Dovrei fare un buco che collega questo con quello. Quindi mi devo segnare le coordinate, oppure posso andare un po' ad occhio, ma io quasi quasi andrei ad occhio. Ok, invece ho cambiato idea, mi segno le coordinate, quindi ritorniamo lì sotto. Visto che non sarà sicuramente qui l'ascensore, provo a fare una cosa del genere. Provo a fare un buco da questa parte. Lo facciamo di tre perché io voglio scavare, no, facciamolo un po' più là. Quindi vediamo qua. Scaviamo questo pezzettino e iniziamo a mettere le torce nella seconda mano. Si possono mettere con la F le torce nella seconda mano, me l'ha scritto anche qualcuno, io mi dimentico sempre, però faccio così. Allora, io vediamo un po' dove sono, devo fare un po' di scavi perché devo arrivare a 6. Voglio fare anche una cosa che faccio una specie di curva, quindi farei ogni 3 mi sposto di 1. Magari dovrei iniziare anche a salire perché io devo arrivare a 116. Quindi arrivo fin qua e qua invece faccio un gradino più in alto. Qui aspetta, dammi la pala. Sapete che faccio la pala? Me la metto qui vicino, tanto mi servirà. Quindi metto la pala qui, qua c'è dell'altra cosa. Provo a fare un po' di scavo, vediamo quello che succede. Ok, poi ci penseremo al design, non è proprio importantissimo, però devo arrivare. Quindi ne ho fatti altri 3 e devo scavare altri 2 da questa parte. Quindi qua c'è un sacco di gravel. Io mi preoccupavo per la gravel, dico guarda che la gravel non la troverò mai. Invece ne ho trovata tantissima di gravel. Non tolgo tutto perché devo farlo uno più alto, quindi devo iniziare a rompere. Qua ho un po' di roccia. Un po' di roccia, tolgo anche questa gravel che ci dà solo fastidio e facciamo anche qua 3 spazietti. Un altro gradino in alto, intanto troviamo del carbone che è sempre utile, non lo schifo mai io. Sorge un problema perché qua secondo me siamo già all'aria aperta perché c'è della terra. Speriamo di non sbucare da qualche parte di sbagliato. Proviamo a vedere se riusciamo a continuare perché mi manca... Sono 114, sono già lì, non è proprio. 116 devo arrivare in altezza, poi devo curvare un po' di più magari. Magari curverò in questo momento, vediamo un po' quello che succede. Guardandolo così è un po' troppo basso. Probabilmente alzerò di un altro blocco, abbasserò tutto di un blocco, non lo so. Però così non va bene. Inoltre qua sono uscito dove non volevo uscire, purtroppo è andata così. Allora, vediamo un po' quello che succede. Riesco in qualche modo a salire. Questo va tolto. Eh, perché farlo così basso non ci posso mettere neanche le scale, forse. Poi quello lo vediamo. Adesso intanto voglio... Sono andato a dormire perché era notte. Quindi 1, 2 e 3. E dovrei scavare da questa parte. Quindi qua dovrei in qualche modo chiudere, magari. Facciamo che ci sono delle galline, va bene, una pecora che non mi serve a niente. Io faccio 1, 2, 3. Quindi io qua quasi quasi chiuderei. Perché chiudo della terra. Ah, poi vediamo, poi vediamo. Perché intanto chiudo con la terra e chi se ne frega. 1, 2 e 3. Io sono a 115, quindi dovrei salire ancora di un altro pochino. Però magari io ci arrivo... C'è l'ultima salita e me la faccio da quella parte. Quindi qua chiudo perché in questo momento mi serve chiuso. Quindi arrivato qui faccio tipo un pianerottolo per girare e scaviamo da quella parte. Inoltre ho anche sbagliato. Non devo andare lì. Quindi io qua ci metto una torcia per sicurezza. Ma a me basta 1, 3, 2, 1. Quindi mi basterebbe scavare da questa parte. Quindi proviamo a scavare qui. Vediamo che succede. Ok, sono arrivato. Perfetto, perfetto. Più o meno ce l'ho fatta. Mettiamo un'altra torcia anche... No, caspitina. Maledizione. Qua adesso va messo un blocco sopra per togliere... Ok, non volevo fare questo. Ok, perfetto. Quindi siamo arrivati. Volevo mettere una torcia. Ma ogni volta con le torce io impazzisco. Ok, perfetto. Quindi fammi togliere le torce dalla mano sinistra. Qua sono pieno. Mannaggia. Ok, tolgo le torce e metto l'erba nella mano sinistra. Ok, perfetto. Qui c'è questa piccola isoletta. Non capisco perché l'erba non si... Forse perché non gli arriva la luce del sole. Può darsi che debba togliere quel... Ma quello lì mi piaceva tantissimo a me. Questo... Questo buchetto che c'è nel terreno. Andiamo a prendere delle fence. Visto che mi trovo mi faccio una doppia cesta da lasciare in casa. Perché se no esco pazzo, esco. Quindi anche una sola cesta. Guardate qui non riesco più a fare niente. Non riesco più a fare. E peraltro ho aperto anche la porta come un pirla. Lo so che se lancio le cose su quella cosa lì si apre. Quindi lasciamo a casa tutto quello che non dovrebbe servirmi. E ho pensato che potremmo sistemare tutto il sistema lì delle scale. Vediamo quindi di metterlo subito a posto. Quanto me ne serviranno? Non lo so perché a me poi non piace andare in giro saltellando. Quindi prendiamo queste 20 scale e vediamo quello che mi serve. Allora io vorrei arrivare qui. Se io metto le scalette qua non mi fa salire secondo me perché c'è il blocco. Vediamo un po'. E invece mi fa salire. Perfetto. Quindi mettiti così. Mettiamo tutte queste scalette. Magari qua non so ci piazzerò qualcos'altro. Vedete qua per esempio non riesco a salire. Perché? Perché ho scavato male ho scavato. Lo sapevo che scavavo male. Scavo sempre male. E continuo a scavare male. Guarda. È una cosa incredibile. Vabbè che qui è carbone. Quindi lo dovevo prendere prima o poi perché non può. Poi ci pensiamo al design. Al design della situazione qui. Della stradina. In questo momento fa un po' schifino. Lo so. Lo so che fa un po' schifino. Ma poi ci penseremo. Quindi tanto è una stradina che ci porta a degli animali. Quindi non dovrei farlo troppo bello. Ma un po' di cura ci vuole. Sennò tutti i materiali diversi qua non si capisce niente. Ma in edizione mi sono finite gli scalini. Andiamo a prenderli un attimo sotto. Mi devo portare anche una crafting table qui sopra. Per il momento la metto qui. Mi sono dimenticato. O niente. Mi sono dimenticato. Perché mi servono solo dei gradini. Così. Quanto ne faccio? Ne faccio magari 12. Sperando che mi bastino. Ok. Abbiamo finito. Quindi siamo arrivati fin qua. Volevo farlo di legno. Però secondo me sta meglio con i murettini. Questi qua di pietra. Perché comunque è una zona abbastanza rurale. Quindi secondo me ci potrebbe anche stare. Come faccio? Allora. Tolgo questo che non mi piace. Tolgo anche questi qua che non mi piacciono tantissimo. Ok. E vorrei partire da questa parte. L'erba qui. Che livello di luce c'è? C'è scritto da qualche parte. Light. 13, 14. Non si espande. Non si espande perché secondo me dobbiamo togliere quella piattaforma lì sopra. Però non volevo toglierla. Quindi io farei una cosa del genere. Piazziamo qui dei blocchi. Togliamo F3. Che mi dà solo fastidio. E seguiamo più o meno il contorno della nostra piattaforma. Allora. Così non dovrebbero neanche suicidarsi. Qui c'è una nuvola che taglia e mi passa in mezzo. Lì c'è un blocco che vola. Cos'è sono questi blocchi che volano? Boh non lo so. Comunque questa qui sarà la mia piattaforma dove porterò, proverò a portare, degli animali. Non sono se neanche sicuro. Spero che spawnino qui degli animali. Mettiamo delle altre luci. Che magari con più luci si riesce ad avere più spawning. Non lo so. Dovrebbe essere. D'altronde non ho capito quest'erba che non spunta. A volte l'erba si trova pure nelle... L'erba non lo so. La terra si... I fiori si trovano pure nelle caverne. Non lo so. Ok. Ne ho messo un sacco di torce. Qui dovrebbe spuntare qualsiasi cosa. In tante notte andiamo a dormire. Intanto qui mi si è creata la muraglia cinese degli alberi. Maledizione. Mi sto allontanando per vedere se lì riesco a far spawnare qualche animaletto. Che magari può restare lì sopra. Oppure prenderò delle uova in giro che trovo e inizio con i polli. Non ci siamo. Vediamo. Quindi arrivo fin qua. Dovremmo essere a 25 blocchi di distanza. E vediamo quello che succede. Allora io qua avrei deciso di farlo... Di chiudere questo buco che è sbagliatissimo. Avrei deciso di farlo... Non è uscito niente. Non è uscito. Neanche l'erba si è diffusa. Avrei deciso di farlo tutto quanto di... Di cobblestone. Proprio così. Cobblestone normale. Perché è abbastanza una zona... Deve essere una zona abbastanza rurale. Quindi ci saranno gli animali là. O almeno la pianta... Il pascolo all'esterno. Volevo fare anche con della legna. Me l'ero portata. Sì eccola. Vorrei fare delle fence. Magari qualcosa da chiudere in legno. Vediamo. Facciamole un po' di più. Poi facciamo degli stichettini. Se mi ricordo. Perché io non mi ricordo mai come si fanno le cose. Quindi tre di questi. E poi facciamo con questo qui. Mi servono degli altri stichettini. Facciamo così. Facciamo un cancelletto per entrare. Ok. Più o meno mi sono ricordato. Non tanto me. Più ma un po' meno. Ci vado un po' a culo. Allora mettiamo questo qui. Tanto il buco è da tre. Quindi mi bastano. Io vorrei chiudere qua. Quindi così e così. Metterci il cancelletto. E posso entrare e uscire. Perfetto. Quindi adesso provo a portare con un steccavole di nuvole che mi danno solo fastidio. Provo a portare qui degli animali. Dovrebbero spawnare. Perché se vi ricordate da quella parte non c'ho niente nemmeno. Da quella parte comunque c'era una pecora. C'erano delle galline. Ho visto delle galline qui più o meno che andavano. Quasi quasi le vado a prendere un attimo. Senza semini. Vabbè le vado a uccidere però. Vedete è pieno di galline qua. Ma loro qui non vogliono venire. Qua peraltro c'è un qualcosa che mi sta facendo venire in mente dell'altro. Che è sto... Sta torretta naturale che c'è. Questa è una bella torretta. La sfrutteremo sicuramente. Allora vado a chiudere. Spero che questa idea vi sia piaciuta. Io magari sa che parte che faccio. Vado a mettermi un po' per farvi vedere un po' come esce. Non lo so. Fatemi sapere voi se vi piace questo sistema. Non so cosa mettere sul tetto. Vorrei farlo tutto di legno. Quindi con delle slab ricoprire tutto di legno. Non so. Le pareti. Così diventa troppo liscio. Magari potrei fare tipo delle colonne qui dove parte la scala di... Potrei fare delle colonne con dell'Oak. Mi servirà un sacco di Oak. Ma chi se ne frega. L'Oak più o meno lo facciamo sempre. Forse il legno è il materiale più semplice da trovare su... Già fare una cosa del genere potrebbe permettermi di fare delle tipo colonnine. Quindi non lo so. Fatemi sapere se l'idea vi piace. Io potrei fare delle colonnine in questo modo. Uno, due e tre. Già fare una cosa del genere si spezza un po' con il design. Non sono sicuro dalle pareti. Non lo so. Se avete qualche consiglio scrivetemi sotto nei commenti. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento e mi piace. Di iscrivervi al canale se ancora siete iscritti. Di condividere il video se potete. E noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!